Come? Non è una videochiamata. Eh no, no, è una chiamata. Sì. Pronto? Sì. Dovremmo parlare con la signora Maria. Chi è? Buongiorno. Si, buongiorno del Vaticano, signora, li sente? Ah, sì, come no? Passo su Ebeneza. Pronto, buongiorno. 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 Che c'è che parla? Sono il Santo Padre. Ma no, Papa Francesco! No, Papa Francesco, io l'amo. Io voglio bene, prego, sempre. Io faccio una preghiera. Grazie, Papa Francesco. No, non è possibile che mi hai chiamato, no? Papa Francesco, io ho la sua foto davanti, che me l'ha mandata un ragazzo della Puglia, un fan. Mi ha mandato Papa Francesco questi giorni e lei mi ha chiamato. Papa Francesco. Dove vive, signora, nonna Maria? Io vivo a sei chilometri da San Francesco, da Sicci, io sono di Baschia. Bellissimo, bellissimo. Certo, io amo anche San Francesco. È un luogo di preghiera, è un luogo santo. Un luogo santo. Grazie, Papa Francesco, grazie. Papa Francesco, la ringrazio tanto. Questa è mio nipote. Grazie mille per aver chiamato. Grazie, Papa Francesco, grazie. Contenta? Tanto, ma che cazzo. Neppo, grazie, Federico, grazie, Papa Francesco. Ma te ne hai conto. Mi l'ha mandata questa settimana, guarda. Questa? Sì, ma questo è quello. Ma mi hai chiamato Papa Francesco. Ma lei, dici, non mi hai chiamato. Ma sei contenta apposta? Hai fatto una cosa bella. È come parlare con Gesù, è uguale. Certo. Io volevo fare la domanda se si dimetteva, ma... Ma tu, non l'ha sbagliato. No, no, non l'ho fatta apposta. Dai un bacetto, beh. Sei contento o no? Sì, è una cosa... Nonno, ma riguardo. Eccoci! Ciao, nonno Maria! Ciao, nonno Maria. Il Papa era lui, il Papa. Io ti devo chiedere scusa, è colpa di questo qua. Vedi che ha gli occhiali rossi del demonio. No! Io ti ho sentita così contenta, che quasi quasi io non te lo dicevo che era uno scherzo questo. Certo, certo, certo. Però sappi che davvero il Santo Padre te vuole bene. Assolutamente. Era uno scherzo. E noi ti vogliamo tantissimo bene. Ciao! Grazie, auguri e anche Nondo Faustino. Ciao, ciao, saluti a tutti. Salute, era uno scherzo. Nicola, saluta Nicola e Roberto. Ciao Nicola, ciao Roberto. Vai, fa un sorriso, eh? Sì. Ma in vita li ha mangiato le tagliatelle. No, no, mi hanno fatto sto scherzo, sti birbaccioni, niente, niente tagliatelle. Ha le tue. Da chi volevi chiamare? Dal prete? Volevo chiamare il prete. Ma io dico, dico, dico... Ma ti poteva chiamare il Papa? Tu dung, tu dung, tu dung, da me adevo.